Altri finanziamenti arriveranno in città, anche se questa volta ad ottenerli non è stato soltanto il capoluogo nisseno, ma gli interati nella provincia di Caltanissetta per la rete idrica, grazie al progetto risultato tra le proposte ammesse a seguito dell'avviso pubblico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali nell'ambito del Programmo Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020, asse quarta riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, i cui interventi sono complementari ad uno degli investimenti della missione 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il progetto dell'ATI è riuscito a piazzarsi al quinto posto con un punteggio di 74,003 dopo due progetti dell'ente idrico campano, uno dell'ATI Palermo e uno dell'ATN. 37 progetti presentati in tutto il Mezzogiorno d'Italia, soltanto 7 finanziati, tra cui quello dell'ATI di Caltanissetta, un importante traguardo a cui abbiamo lavorato grazie all'ATI e all'Assemblea Territoriale dei Sindaci, appunto che da aprile del 2021 si occupa della rete idrica e quindi un obiettivo che porterà, come è dal decreto di finanziamento, l'abbattimento di almeno il 25% delle perdite nell'intero ambito, con l'obiettivo di distrettualizzare tutto l'intero ambito, ad oggi soltanto 5 distretti, ma arriveremo a 60 distretti governati digitalmente e quindi l'ammodernamento e la lettura digitale di tutti i contatori, quindi un importante percorso di vicinanza anche al cittadino, col duplice risultato che abbattendo le perdite si abbatterà anche la tariffa. Questo è un lavoro che abbiamo detto da sempre con la governance dei sindaci e si sarebbe attuato. Tutti questi interventi dovranno essere ultimati entro il settembre del 2023, quindi siamo assolutamente in linea con quanto detto e con i risultati che ci auspicavamo e che stiamo iniziando ad ottenere. Il lavoro sinergico dei 22 comuni coinvolti insieme all'ente gestore del servizio idrico ha permesso dunque di arrivare ad un finanziamento di 15 milioni e 878 mila euro. Oggi Caltanissetta, come dicevo, è il capologo di provincia più virtuoso dove si ha la minore percentuale di acqua che viene dispersa nelle reti, contrariamente a quello che avviene nelle altre province siciliane. Tutto ciò grazie agli investimenti, soprattutto privati, che abbiamo realizzato sia nel quadrienno 2016-2019, dove sono stati realizzati investimenti in tutto il territorio provinciale per circa 15 milioni di euro e altri investimenti sempre privati che stiamo realizzando nell'ambito del quadrienno 2020-2023 per circa 25 milioni di euro. Quindi questi interventi che oggi verranno finanziati con il bando a cui abbiamo partecipato sicuramente sono degli interventi complementari integrativi e che contribuiranno sicuramente a migliorare il servizio idrico integrato di tutta la provincia di Caltanissetta. Effettivamente la perdita si abbatterà di circa 7-8 punti percentuali perché oggi abbiamo un rendimento della rete sul territorio provinciale che varia fra il 62 e il 63%. Con gli interventi che andremo a realizzare contiamo di arrivare a un rendimento della rete di almeno il 70%. Finanziamenti che si aggiungono ad altre somme già rintracciate dal Lati, costituita a fine 2019 ma formalmente soltanto nell'aprile del 2021 a causa della pandemia. Ottenuti infatti circa 18 milioni di euro attraverso il patto con il Sud per interventi di varie tipologie in alcuni comuni dell'area ma si prevedono ulteriori somme in arrivo così come annunciato in conferenza stampa.